C'è una controversia tra nazioni, intanto quello che vedo alle mie spalle è il versante svizzero, cioè lì è Svizzera e quello è il piccolo Cervino, sono 3.800 metri, dove invece siamo noi, si sente forse anche dal fiatone, sono 3.500 metri, meno 6 gradi in questo momento, per fortuna c'è un bel sole ed è versante italiano, forse ancora per poco, perché? Perché siamo davanti a un rifugio, che è il rifugio delle guide del Cervino, che da un po' di tempo a questa parte è conteso, perché? Questo rifugio è stato costruito nel 1980, per tanto tempo è rimasto ed è tuttora sul territorio italiano e poi cosa è successo? Nel 2009 la Svizzera e l'Italia hanno stabilito di spostare il confine in base allo scioglimento del ghiacciaio sul quale ci troviamo, il plateau Rosà, un ghiacciaio perenne sulle Alpi Pennine, guarda che meraviglia intanto questo panorama. A quel punto il ghiacciaio si è sciolto e questo rifugio è finito a metà tra la Svizzera e l'Italia, quindi adesso la Svizzera a seguito dei rilevamenti satellitari chiede la proprietà del rifugio, l'Italia non gliela vuole dare e si sta cercando di trovare una mediazione. Ora noi abbiamo interpellato il sindaco del Comune Italiano che copre questo territorio, che è Valturnansi in provincia di Aosta, che è Gian Antoine Macchinà, è qui con noi per capire, effettivamente sindaco... Valerio scusami, mi presento gli ospiti intanto, Roberta Pinotti, Partito Democratico, Massimiliano Romeo che finalmente è arrivato nello studio, l'abbiamo trascinata. Ce l'ho fatta, buon pomeriggio, grazie per l'invito. E comunque ricapitolando, questo racconto ci pone anche un tema importantissimo perché gli acciai si stanno sciogliendo e quindi si scivono anche i confini, oltre che dirci che non c'è nulla di deciso nella vita perché se ci cambiano pure i confini è finita. Insomma, che stanno rivendicando, la Svezia rivendica la proprietà di quel, proprietà nel senso insomma il fatto che quel territorio sia suo dove sorge appunto quel rifugio. Le questioni di confini sono sempre state complicate. Esatto, e adesso c'è anche il riscaldamento climatico a complicarle ulteriormente. Ti ridò la parola Valerio, che dice il sindaco? Ecco, esatto, quello che dicevi tu, il ghiacciaio ha fatto sì che si spostasse il confine, quindi praticamente se io mi sposto qui sono in Svizzera, se mi sposto qui sono in Italia, insomma una cosa del genere, no sindaco? Sì, diciamo che ci troviamo proprio sul confine italo-svizzero, quindi già nel passato il rifugio era stato costruito proprio sul confine. Sapete che i confini si spostano perché è lo spartiacque che dice qual è il confine, quindi parliamo di centinaia di miliardi di chilometri di stati, quando arriviamo proprio sul confine a volte per questione di un metro, un metro e mezzo può esserci questo dubbio. Però diciamo che il Cervino è delle guide del Cervino, della Valtrunasch come è sempre stato e appunto stiamo trovando un accordo tra i due stati, tra l'Italia e la Svizzera per rettificare diciamo queste carte. Quindi sicuramente con i rapporti che abbiamo con i nostri cugini di Zermatt ottimi, troveremo un accordo, sembrerebbe attraverso una permuta con un altro piccolo pezzettino dall'Italia, della Valle d'Aosta, sulla gobba di Rolaine alle mie spalle. Ecco, però ancora non ce n'è uno ufficiale, insomma, qua si tratta di tante scartoffe burocratici. Valerio, scusami, che vuol dire una permuta? Gli dobbiamo dare qualcosa in cambio? Eh, probabilmente sì, cioè alcuni terreni in cambio del mantenimento della proprietà. Sì, diciamo che parliamo di pochissimi metri, quindi non è una permuta importante, è solo una permuta diciamo che va siglata tra i due stati sulle carte. Affinché faccio un esempio, oggi ci ritroviamo ad aver presentato un progetto di questo rifugio, del rifacimento, e quindi vanno presentate le concessioni di indilizie in Italia, nel comune di Valtrunasch. In questo momento, con il dubbio di alcuni metri, potrebbe essere che dovremmo chiedere una parte di progetto in Svizzera? Ecco, no, dobbiamo solo sistemare le carte e quindi siglare questi accordi tra i due stati. Ma i proprietari del rifugio, dove vorrebbero stare? Continuare a stare in Italia? Svizzera, o preferirebbero a Svizzera, dove magari hanno un trattamento fiscale, diciamo più generoso? Non lo so, è una cattiveria? Svizzera, assolutamente in Italia, da quello che ci hanno detto, perché sono patriottici, insomma, amano l'Italia, il rifugio è proprio delle guide, del Cervino, e sono italiane, no Simba? Sì, sì, è un rifugio che tra l'altro è stato uno dei primi in Italia, sudato dalle nostre vecchie guide, sicuramente in Italia, ma il rifugio non c'è dubbio che sia nostro, che sia degli italiani. Giusto. Ecco, dei Valdostani, dei Vottorneo. Allora, scusate un attimo, perché qui in Asselo Spi di Studio... Sera pronta ad accogliere un sacco di turisti, eh? Valerio, rimani lì perché magari ci fai rivedere un altro po' di quel bellissimo panorama e sogniamo un pochino pure noi.